Buongiorno! Voi? Lo so già! Le vuole mezzo chilo di panini? No, voglio della focaccia! Porca miseria ma sbocaccia! Maldi! Mi ha fatto spaventare! Eh? Cosa è successo? Niente! Sto facendo il panico! Ah! Bravo! Bravo ragazzo! Signora gli chiede di fare una cosa! Lei lo fa! Io sono contento! Perché c'è tanti che hanno il personale con me! Ah! Maldi! Ma non hai finito di fare il panico? Sì, anche l'errore! Cosa è successo? Sono andato nello scappuccino dove c'è le scope! Ho acceso la luce! Ho visto! Ho riprovviso! La foto di sua moglie nuda! Ah! Maldi! Poverino! Bevi qualcosa! Bevi un bicchiere d'acqua! Se vuoi piangere piangi! Fai la pipì! Prendi il fiato! Povero! Poi che poi passa! Sono passato anche io! Poverino! C'ha ragione! Guarda che mia moglie è brutta! Mia moglie è brutta! Mia moglie è talmente brutta che quando ci siamo sposati! Il prete l'ha guardata! Mi ha guardato e mi ha detto! Chiodoroli! O è ricca o sei scemo! Che non è ricca eh! Ah! 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 Ah!